Ancora guai per padre Alessandro Minutella, ex parroco di Romagnolo, che si è rifiutato ufficialmente attraverso internet di rendere un atto pubblico di fedeltà a Papa Francesco. Adesso ha pubblicato un video su Radio Domina Nostra, che sta facendo il giro del web. Per questo è verso la scomunica dalla Chiesa Cattolica. Lo ha comunicato lui stesso in un video lungo 20 minuti. Molto presto, dunque, il sacerdote palermitano potrebbe essere fuori dalla comunione ecclesiale non appena la congregazione per il clero si riunirà. Il 21 settembre, Don Minutella aveva presentato una lettera al vescovo Corrado Lorefice, che gli aveva già vietato la celebrazione delle messe, una missiva in cui il sacerdote ribadiva le motivazioni della sua protesta. Nel documento, Don Minutella diceva di schierarsi contro l'impostura della falsa chiesa di Papa Francesco, posizione ribadita più volte anche attraverso Facebook. Le sue messe in parrocchia erano affollatissime e in molti solidarizzavano con la sua battaglia contro la falsa chiesa. Tanto che, quando venne rimosso dalla parrocchia di Romagnolo, alcuni fedeli manifestarono pubblicamente in segno di solidarietà. In seguito al mio ricorso presentato alla congregazione per il clero in Vaticano, dopo aver inviato una lettera al mio vescovo il 21 settembre, in cui tornavo a professare tutte e singole le verità della fede cattolica, comprese il mio ossequio dell'intelletto e della volontà al romano pontefice, spiega nel video intitolato Il Coraggio della Verità, Il prefetto della congregazione mi ha notificato che il ricorso veniva sospeso fino all'8 dicembre e intanto io avrei dovuto fare un attestato pubblico di fedeltà sui social network a Papa Francesco. Il prete non ha ritenuto di dovere dare seguito però a questo suggerimento ed è stato convocato dall'arcivescovo Corrado Lorefice, che gli ha riferito che sarebbe stato scomunicato con due scomuniche solenni. Non solo non faccio questo atto ipocrita, sarebbe sudditanza supina, ribadisce il prete, ma adesso mi rivolgo direttamente al Papa e chiedo a lui cosa ne pensa della comunione ai divorziati sposati. Una confusione di cui è lui il primo responsabile. Proprio l'apertura di Papa Francesco alla possibilità che le coppie risposate prendano l'Eucaresti è stata la scelta più contestata da padre Minutella. Per il prete è anche scattato il divieto di usare i social network, network Alessandro Minutella nel suo video ha lanciato la sua ultima ribellione a quell'atto di fedeltà che la curia gli avrebbe chiesto. Questo è un vero e proprio ricatto solo perché dice non ho ribadito il nome del Papa. Dietro c'è qualche altra cosa che fino hanno fatto i miei nove mesi di ubbidienza?